Sindaco di San Giovanni Gerace Giovanni Pitteri, ieri sera i due contendenti a sindaco in questo nuovo consulto elettorale hanno parlato ai sangiovanesi, ma lei che è sindaco uscente, cosa pensa di quanto proferito alla gente? Di proposito ho voluto esimermi di entrare in questa campagna elettorale, di proposito ho voluto presentare alla mia comunità un resoconto di fine mandato, che era una forma estrapolata dal progetto di fine mandato trasmesso al Ministro degli Interni. Quello che mi dispiace è che non si sia stata formata una unica lista, scegliendo coloro i quali avrebbero potuto dare un apporto maggiore sul presupposto che tutti potevano contribuire al miglioramento della vita di questo nostro Paese. Quello che mi ha dispiaciuto è stato aver fatto finta di non capire cinque anni di vita amministrativa con due di pandemia che San Giovanni di Gerace ha raggiunto livelli molto alti e qualcuno dice che mai si sono visti nel Paese tanti interventi che altri hanno lesinato per decenni. Paese con l'impianto generalizzato per il risparmio dell'energia elettrica. Interventi che nessuno ha mai citato per migliaia di Euro per quel che riguarda il dissestro idrogeologico, la grande scalinata che sarebbe andata persa, una scuola senza alunni che sta per essere costruita per quasi 700 mila Euro, questo è un contributo che avevamo ereditato e che si stava perdendo. Contributi a non finire per il miglioramento del Paese, un Paese pulito, lindo, che viene a San Giovanni e si rispecchia, abbiamo creato le premesse per una crescita civile, sociale, democratica che mai si è avuta. E devo ringraziare la cittadinanza. In cinque anni né della Procura, né della Prefettura, né della Guardia di Finanza, né della Polizia di Stato, né dell'Arma dei Carabinieri sono venuto a chiederci un certificato sul presupposto che abbiamo realizzato tutto con i crismi della legalità assoluta, un elemento che doveva costituire il punto di riferimento in questi cinque anni. Quando io giurai, disse, giuro di essere fedele alla Repubblica e nella delibera abbiamo detto non come forma, ma come stile di vita che deve caratterizzarci. E ci ha caratterizzato in questo tempo. Abbiamo realizzato opere a non finire, dalla scialata alla strada per la montagna, a tutte le strade interpoderali con una motopala comprata con l'identità di carica del Sindaco, che poi abbiamo concepito come tagliafuoco per prevenire. E allora se di queste cose non parlate, un Sindaco che non ha percepito nessuna indennità di missione andando a Roma, a Napoli, a Reggio, a Catanzaro, alla Mezzia e in tutti i paesi nel Vinterlande, a Gioia, a Bova, a San Luca, dovunque veniva richiesta una determinata presenza, significa essere ottusi. Come potete, come si può amministrare, se non si conosce quello che già c'è, come si può fare un programma, se tu non sai quello che è di programma dietro, quello che vorrei significare. Io farò adesso un opuscoletto, che voglio che la comunità sappia, è un'altra cosa. L'ufficio o gli uffici di San Giovanni, del comune di San Giovanni sono ponte e punto di riferimento per quel che riguarda tutta la realtà territoriale della Locre sul presupposto che il responsabile dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio amministrativo hanno e svolgono attività di 48 ore perché richieste da tutti i comuni. Quindi che cosa mi dico? I tributi stanno pagando da tutti e se non li pagano vandranno i ruoli all'ufficio delle imposte perché noi non abbiamo scheletri dell'armadio, né tantomeno. Dobbiamo cercare di tutelare coloro i quali non pagano perché sono amici di turno. Il comune di San Giovanni di Gerace è stato retto con criteri di saggezza nell'interesse della popolazione o delle popolazioni, con principi di grande democrazia e il sindaco è stato il sindaco di tutti, come la stessa cosa si case sul santuario. Il santuario è il punto di riferimento, è stato il nostro punto di riferimento sul presupposto che deve divenire una realtà non indifferente. Si parlava di basilica minore, ma il consiglio comunale di San Giovanni l'ha resa e ha dato alle autorità preposte per ciò che possa avvenire. San Giovanni ha concepito e considerato valido le attività culturali che mai si è parlato di queste cose, dove la deputazione di storia patria, l'istituto di storia per il risorgimento nazionale, i Rotari e le comunità della Valle del Toro hanno trovato in questo comune, con la città metropolitana, un punto di riferimento di parlare di cultura. A questo rendiconto? Il rendiconto lo presenteremo e ci sono le copie al comune perché li voglia capire, ma non si può parlare del presente se non si sconosce il passato. Di che cosa parliamo? Noi abbiamo parlato di occupazione, abbiamo realizzato quello che era possibile realizzare. Si parlava della scialata, ma noi abbiamo un mezzo che non abbiamo trovato chi volesse. Allora lo trovavamo come l'obus a Gioiosa, un cittadino e abbiamo una licenza per un cittadino di San Giovanni che possa con questa macchina del comune portare alla scialata o sul laghetto, alla Mezzia o al Reggio Calabria. E allora quando si parla deve uno essere cosciente, avere contezza e consapevolezza di quello che è stato fatto. Altrimenti è destinato questo paese a morire. E come diceva proprio Antonio Galluzzo, perché? Non c'è il fatto del piacere, mi piace o non mi piace. Il sindaco Giovanni Pittari è quel sindaco che per 365 giorni all'anno ha svolto mansione d'ufficio. In presenza. In presenza, non solo. E se qualche giorno è andato da qualche parte, i dirigenti si preoccupavano, dice che cosa è successo. Ebbene, abbiamo svolto il nostro compito e trovo l'occasione. Torniamo alla linea al giornale.